Musica Musica Vi sotterriamo il nostro amore, io ti amo Cannone Franco, anche tu mi ami? Anche io, perché questa domanda? Occhio che non siamo solo noi qui, non facciamoci sgamare. Ti amo tantissimo, non posso stare senza di te, ti mando tanti bacioni con la lingua e sono molto felice che tu sei innamorato di me. Ti amo, è importante amarsi. Vorrei passare tutta la vita intera con te, senza arrossire, perché ci amiamo. Vorrei avere un rapporto per avere dei piccoli cannoni. Anch'io voglio vivere con te tutta la vita. Mi piacerebbe avere un cannone in giardino e amarlo. Dobbiamo tutelarci perché siamo in pericolo. Oh, quanto ti amo! Mandami un bacino piccolo piccolo qui sulla guancia e immediatamente una carezza. Cerchiamo di fare la massima attenzione e un attimo a essere sgamati. Oh, quanto sei bello! Forza! Andiamo a cercare questa grande strada, sperando che gli Umpa Lumba l'abbiano già terminata. Una vita con te è molto importante per me. È un bel romanticismo. Sai che abbiamo davanti ancora 233 anni prima di sperare in quel traguardo? Sarà una lunga vita insieme. L'importante è che nessuno ci veda. È arrivato il momento? No. È arrivato il momento tesoro bello? No. Ci vorrà un po'. Muoviti, muoviti. Si svegli, attivo. Non farti pregare. Vai con le tue ruote agili. Nessuno deve intracciare. Abbiamo fretta. Rispariamo altrimenti. Oh! Eh? Cosa ha detto? Oh! Vogliamo andare a Iseo. Dobbiamo salvarci a tutti i costi. Inauguriamo una barca grossa. Dobbiamo andare sul lago per poterci sposare. Oh! Dobbiamo andare in fretta. Sì, la inaugureranno due anni fa questa barca. Oh! Ci impiegheremo tantissimo, porco cane. Queste difficoltà che ci sono state mille volte. Femmini, guatabacca! Ubbiditi immediatamente. Non ti devi posare, figliolo. Devi stare sulle vetta, figli. Non devi andare fuori di testa. Ubbidisci come andiamo noi che siamo i genitori. Oh! Oh! Noi facciamo quello che vogliamo. Oh! 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 Vogliamo coronare il nostro matrimonio. Spero che quel cannone da ormeggio ci possa aiutare. Lo sapete perché viene usata la culata dei cannoni come ormeggio? Dobbiamo andare in parca Ti ringraziamo Cannone d'Ormeggio Sei bellissimo e sei il migliore Anche se non è il periodo di Pasqua Ti auguriamo buona Pasqua Grazie mille per gli auguri di Pasqua Ciao Cannone d'Ormeggio Ciao Cannone d'Ormeggio Venite andiamo Venite Ciao 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 ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti